quindi mini recap boom marone è blu chi è? chi è? marone? marone cosa è questo? ma non ci posso credere ma che pacco è? è nato toti è nato toti oberdorf dammi un toti questa è un icon petr icon è un icon questa chi si nasconde? xavi still icon e andiamo a quota 4 eccolo vale 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 eccolo attiem attiem godo ma che è già aperto vi darò tenere a f***